il calabroni usco l'avevamo già fatto non avevamo documentato non è cosa ne pegghino sì allora i paletti stanno di qua e se no l'altro non era il caso allora qua conviene fare così conviene stare su questo coso scusa mia ma sono veramente non era il caso di fare quell'altro che è molto più ripido ecco qua vedi si collega con costa lunga questo qua che abbiamo a sinistra è costa lunga ma non dobbiamo stare qua io l'altra volta che lo faccio è la più pulita ok qua si ha preso un po' più sole va meglio carino eh bello eh sì là non può mettere in sicurezza non lo faccio Alla prossima. 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 Alla prossima.